Allora, Priamo è nata, è un'associazione di volontariato e prima ero di via, adesso è diventata APS, associazione di promozione sociale. È nata nel 2011 e a differenza di come molti pensano che Priamo sia il papà di Ettore e l'abbiamo dato per un discorso della mitologia greca. No, Priamo è un acronimo che vuol dire psico-oncologia, riabilitazione, informazione, assistenza al malato oncologico e l'abbiamo fondata nel 2011 ed è costituita da soci fondatori, molti sono anche ex pazienti oncologici che ce l'hanno fatta e il valore aggiunto di questa associazione è che ha i volontari e che ha un comitato scientifico che è tutta quella specialistica medica e non medica che il paziente incontra nel percorso di cura. E i presidenti, il presidente onorario di Priamo è il professor Sartori, io sono la presidente, c'è un consiglio direttivo e poi ci sono due presidenti del comitato scientifico che sono un oncologo che è il dottor Fogazzi che lavora in Sant'Anna e dirige l'unità operativa di oncologia del Sant'Anna e poi c'è uno psico-oncologo che è Fabio Marchetti, quindi psico-oncologia che è la disciplina che segue specificatamente i pazienti dal fase diagnostica alla fase dei trattamenti. Com'è che siamo strutturati? Allora innanzitutto noi facciamo in modo che il paziente paghi soltanto 20 euro in un anno e abbia la possibilità di accedere a una serie di servizi. Innanzitutto essendo psico-oncologi uno dei servizi per noi più importanti è offrire il supporto psico-oncologico e anche una psicoterapia. Considerate che in associazione gli psico-oncologi sono tutti psicologi, psicoterapeuti specializzati in psico-oncologia, quindi il valore aggiunto è che sono tutte persone formate e quindi noi offriamo supporto dalla fase diagnostica alla fase dei trattamenti e talvolta anche alla fase terminale, infatti Priamo aveva pagato una borsa di studio anche ad uno degli psico-oncologi che poi si è specializzato nell'ambito delle cure pagliative. Un altro servizio che noi offriamo è che Priamo offre il supporto a tutto il territorio e in modo particolare in Sant'Anna abbiamo fatto partire il progetto Fiorouge. Il progetto Fiorouge è nell'ambito della sinologia. È un progetto molto articolato perché tutte quelle figure che l'ospedale non mette a disposizione le offre Priamo, tra cui la nutrizionista. Noi abbiamo due tipologie di nutrizioniste, una che fa l'incontro informativo su alimentazione e tumori e un'altra invece che viene apposta da Torino che fa un incontro o meglio una consulenza nutrizionale per tamponare gli effetti collaterali da radio e da chimioterapia. Un'altra cosa importante nel progetto Fiorouge è il colloquio preoperatorio e postoperatorio integrato. Cosa vuol dire? Che tutte le pazienti vengono prima dell'intervento, tutte le pazienti che accedono alla prestione del Sant'Anna, prima dell'intervento, Priamo si inserisce perché effettua con la chirurga e con l'infermiera della Brest, c'è lo psiconcologo dell'associazione Priamo che fa il colloquio preoperatorio integrato e poi successivamente il colloquio postoperatorio integrato. Cosa vuol dire? Che vengono tutte preparate all'intervento prima che la paziente vada in sala operatoria e poi vengono preparate tutti i trattamenti prima che la paziente inizi radio e chimioterapia. Quindi possono con questo incontro fare tutta una serie di domande all'oncologo, al radioterapista o prima al chirurgo in modo tale che vengono preparate. E qui il ruolo dello psiconcologo è importante perché noi pratichiamo tecniche di rilassamento il giorno prima che la paziente vada in sala e la mattina stessa che la paziente vada in sala operatoria. A fianco a questo c'è in Priamo un incontro importante che è l'incontro informativo sulle problematiche da menopausa indotta. Cosa vuol dire? Che la maggior parte delle donne a cui viene diagnosticato un tumore al seno vengono mandate in menopausa. Se vengono mandate in menopausa c'è tutta una problematica legata alla sessualità. Quindi una volta al mese la ginecologa oncologa, l'ostetrico e talvolta anche la sessuologa fanno questo incontro informativo in associazione dove si parla di queste problematiche e danno una serie di consigli utili. Un'altra cosa molto importante è che abbiamo avviato da parecchio tempo è lo sportello assistenziale di tutela dei diritti. Quindi le pazienti possono accedere una volta a settimana a questo sportello dove si parla di esenzione T che domanda di invalidità 104. Quindi tutta quella pratica assistenziale che è fondamentale, che conduce la paziente o il paziente che ha bisogno a fare queste pratiche che molte volte portano veramente via tempo. Poi la maggior parte della gente non sa che ha dei diritti e quindi questo è lo sportello dei diritti assistenziali. Ma veniamo al piatto forte. Il piatto forte sono i laboratori esperienziali che sono stati ormai da anni sostenuti dalla fondazione Biler Stefanin. Questa fondazione fa in modo che tutti i pazienti possano accedere ai laboratori musicoterapia, danzaterapia, yoga, tai chi, arte terapia, biomusica, laboratorio psicocorporeo, sono tantissimi. Il valore aggiunto è che questi laboratori sono tutti condotti da personale specializzato. Quindi sono gruppi condotti da psicologi, psicoterapeuti, psiconcologi, cultori della materia. Diciamo un esempio. Chi ad esempio pratica la danzaterapia non solo è uno psicoterapeuta ad approccio psicocorporeo ma ha fatto la scuola di musicodanza terapia. Chi ad esempio fa musicoterapia non solo ha fatto il conservatorio è uno psicologo che ha fatto la scuola a Roma di musicoterapia. Quindi chi pratica yoga non è l'istruttore di yoga ma anche qui è uno psicoterapeuta. E questo è molto importante perché prima di avviare un paziente ad un laboratorio è importante avere da parte dell'oncologo il via di poterlo inserire in un gruppo perché molte volte il paziente oncologico ha delle problematiche e quindi noi dobbiamo sapere che cosa dobbiamo affrontare. Quindi questi sono una parte delle consulenze, dei servizi offerti. Poi ci sono tutta una serie di altri progetti. Facciamo anche promozione della salute. quindi dopo aver fatto un convegno anni fa su sessualità e cancro abbiamo un'ostetrica e una psiconcologa che fa per le scuole gratuitamente dei corsi di promozione della salute sulle malattie sessualmente trasmissibili. Fra i tanti servizi abbiamo anche inserito da qualche anno, abbiamo fatto una convenzione da qualche anno con l'associazione Primo Aiuto Onlus di Monza e regaliamo le parrucche. Le pazienti che devono fare chemioterapia hanno la possibilità di avere la parrucca e anche eventualmente il copricapo. Abbiamo avviato anche le camminate culturali per pazienti con BPCO, quindi sono tutti pazienti con bronchite cronico-ostruttiva che difficilmente escono e noi li portiamo a fare delle passeggiate e anche qui il team è un team multidisciplinare formato da un architetto, da un istruttore ISEF, da uno psiconcologo li portiamo a fare queste passeggiate. Quindi di progetti ne facciamo tanti. Ora questi progetti sostanzialmente costano a noi perché facciamo pagare solo 20 euro in un anno e quindi abbiamo in qualche modo bisogno di raccogliere fondi. Allora noi ogni tanto organizziamo delle manifestazioni e il 9 di giugno alle 20 e 30 in San Barnaba Paola Rizzi, che è una persona veramente molto brava, farà in San Barnaba una commedia. Non sono una signora e quindi abbiamo bisogno che la gente venga a sentirla perché questi fondi raccolti saranno destinati a una parte di questi progetti. Non solo, il 23 di settembre grazie al Comune e alla Fondazione Brescia Musei ci metteranno a disposizione il Museo Santa Giulia e quindi faremo tutti questi laboratori aperti non solo ai pazienti e ai loro familiari ma aperti a tutte le persone che hanno voglia di promuovere il benessere.